Sono venuti quest'oggi a trovarci in rappresentanza della pallanuoto tolentino Mario Foglia e Luca Caproli con cui parleremo appunto di quello che è successo lo scorso weekend ad Avezzano. Quelle che vedete alle nostre spalle sono solo alcune ragazze in rappresentanza della categoria allieve femminile che hanno conquistato un bellissimo bronzo ad Avezzano. Mario ma partiamo da te ricordando appunto quello che è successo dal 18 al 21 luglio scorsi. Sì come ci eravamo lasciati quando abbiamo fatto la bellissima finale di playoff per andare in A2 avevamo detto che dovevamo finire e chiudere la stagione dal 18 al 21 con le finali dell'Under 16. E ci siamo riusciti a fare un bellissimo torneo oltre ogni aspettativa perché noi venivamo dall'esperienza dell'anno scorso dove tra le prime otto squadre d'Italia noi ci eravamo classificate al settimo posto quindi con un bel risultato. Quest'anno volevamo o confermare o migliorarci ci siamo riusciti garantisco che è stata una bellissima emozione perché le squadre che abbiamo affrontato erano a livello nazionale ma diciamo tutte squadre che partecipano a categorie magari superiori quindi è stata una bellissima esperienza. Luca vogliamo quindi ricordare tutte le ragazze che hanno conquistato questa bellissima medaglia. Volevo ringraziare tutte le ragazze che hanno partecipato a partire dai portieri Zidelli e Remici passando per Mariani, Baldinelli, Del Furia, Cercozzi, Candale, Nardi, Ruani, Il Capitano e Lucchese. E sono state loro dieci a contendersi questa bellissima vittoria in sei diverse partite come sono andate? Abbiamo iniziato subito con un girone di ferro tra cui il Sori, Locatelli e l'equipe Orizzonte squadre di un certo rango. Siamo partiti subito con la prima partita contro il Sori che era la squadra con cui cercavamo di lottare per i tre punti. Abbiamo fatto un'ottima prestazione, abbiamo vinto 8-6 e da lì poi c'è stato l'esploat delle ragazze che hanno continuato col gioco, col ritmo e con l'intensità ad arrivare insomma fino in fondo. Ci sono stati un paio di stop con l'equipe Orizzonte che comunque sia per gli addetti ai lavori è una squadra ben blasonata con diversi titoli ma non ci siamo dati per vinti. C'è stata la terza partita del girone che è stata giocata con i Locatelli dove siamo riusciti a vincere per 9-8 per poi dopo passare agli scondiretti con il plebiscito Padova. La squadra come l'equipe Orizzonte ben blasonata ma abbiamo avuto battaglia, abbiamo resistito insomma nonostante anche il numero delle ragazze che era esiguo siamo riusciti ad ottenere una vittoria per 9-8 per poi rincontrare di nuovo nel finale il terzo e quarto posto la Locatelli. E di nuovo batterla con lo stesso risultato 9-8 sempre facendo un grande grande applauso a queste ragazze perché hanno fatto qualcosa che nessuno si poteva aspettare. Noi volevamo migliorare quello che era stato il risultato dell'anno scorso che era un settimo posto però insomma non ho aggettivi per descrivere la mia felicità e soprattutto tutto quello che hanno dato in campo loro. Ripartirai poi con l'attività vera e propria la piscina Caporicci di Tolentino da settembre con loro e con le ragazze della prima squadra. Sì adesso un po' di meritata vacanza un mese poi a settembre si ripartirà con le attività giovanili quindi junior, salieve, prima squadra dove quest'anno ci saranno impegni ben più grandi di quello che abbiamo affrontato quest'anno qua insomma con la serie A2 che in gombe. Cercheremo un attimino di pianificare al meglio possibile gli allenamenti e cercare di dare tutti noi stessi come abbiamo fatto finora. Nuoto palla nuoto Tolentino, Mario ripartiremo a settembre con tutte le varie attività non solo quelle che ha descritto adesso Luca. Qualche novità ce la vuoi anticipare? Sì apriamo un attimino piccola parentesi per chiudere il discorso allieve non c'è stato solo il bronzo ma soprattutto c'è stato anche il premio come miglior portiere con la nostra Sara Zitelli che è un premio molto molto ambito perché a livello nazionale è una cosa bella. Poi abbiamo avuto anche dei buoni risultati come gol fatti, non a caso la nostra Ruani è arrivata quarta nella classifica dei capocannonieri, quinta è arrivata la Cercozzi quindi chiudiamo con queste ciliecine e andiamo avanti. Poi a settembre si riparte, a settembre ci aspetta la Serie A2 che come si può capire è un livello superiore rispetto alla B che abbiamo fatto quindi noi dobbiamo oltre che migliorare come organizzazione perché le trasferte magari saranno più lunghe, noi ci siamo abituati perché lo abbiamo fatto per sette anni consecutivi poi per altri tre quindi più o meno capiamo cosa vuol dire affrontare la 2. Probabilmente il nostro numero delle ragazze è un po' esiguo perché infatti alle finali abbiamo un po' penato per i ricambi perché insomma sei partite sono tante e abbiamo capito che probabilmente dovremmo ampliare questa rosa, stiamo cercando come è normale di contattare qualcuno che ci può aiutare in questa impresa nella 2. Purtroppo siamo partiti un po' in ritardo e quindi ancora non abbiamo belle notizie, non abbiamo notizie diciamo. Però ecco ci vogliamo impegnare sia come società, come allenatore, come ragazze per poter quantomeno fare una bella figura e dare lustro al nome Tolentino perché più tempo passa e più cominciano a capire il nome Tolentino perché alle prime volte qualcuno non sapeva nemmeno di quale regione eravamo adesso cominciano a farci complimenti e siamo molto molto contenti. Luca chiudiamo con te, cosa auguri per questa estate che è già iniziata a tutte le tue ragazze? Sicuramente riposo perché ci voleva dopo un anno così ricco di festeggiamenti ma anche ricco di impegni ricaricare le batterie in vista della nuova stagione che come diceva il Presidente sarà una stagione lunga e tortuosa perché così all'ostacolo della 2 è una categoria superiore dove alcune ragazze come sia giovani, anzi giovanissime la intraprenderanno per il primo anno, insomma non sarà facile, perciò oltre ai vari allenamenti dal punto di vista fisico conterà quest'anno più che mai l'aspetto mentale. Come è stata quindi ragazze questa esperienza per voi? È stato bellissimo perché il risultato ha superato ogni nostra aspettativa. È comunque stata un'esperienza che ci ha legato tanto e ci porteremo sempre nel cuore. È un'esperienza che ci ha unito molto perché comunque abbiamo passato molto tempo insieme e siamo molto contenti come squadra. Siamo riuscite ad essere molto legate anche in acqua e questo si è visto anche il risultato e non siamo legate solo fuori ma anche in acqua riusciamo a dare tutto. Da quanto capitano sono molto orgogliosa del lavoro che abbiamo fatto e di come ci siamo impegnate durante il corso dell'anno che poi si è visto durante questo torneo. Come compagna di squadra di Under 18 e Serie A2 sono molto fida delle mie compagne e non vedo l'ora di iniziare una nuova stagione insieme a loro. Vi lasciamo quindi con il saluto delle nostre ragazze. Forza Panamato Valentino!